Molto tempo fa, gli antichi svelarono una grande profezia. Una potente aquila e tre coraggiosi guerrieri. Un giorno avrebbero sconfitto gli oscuri signori dell'oltretomba. Terebro! Perché non va? Sono la principessa Maya! Aquila guerriera di Teca! Sono fiera di combattere con voi. Io sono Chimi, guerriero cacciato dal regno della giungla. Sono Rico, il mago gallo dell'Isola della Luna. Sono Bichu. Ok, andiamo. È cominciata la storia della nostra amata brigata. Siamo i guerrieri della grande profezia. Non hai nessun piano. È ora che affrontiate dei veri dei! Lei là? Dei perduti dell'oltretomba. Maya verrà sacrificata. Il sacrificio mi trasformerà nell'essere più potente di tutti i regni! Beh, è stato bello conoscervi. E se la profezia fosse sbagliata? E se l'ormit clan non potesse essere fermata? Vorrei unirmi a voi. Sono Zatz, principe dei pipistrelli. Ui ui, è il vampiro guapo! Portatemi la principessa di Teca! Se affronti il Maya! Affronti tutti noi! Oh sì, ci sono! Non sapevo che Rico potesse farlo. Vi odio davvero tanto! Sì! Schiacciateli! Nessuno può toccare mi famiglia! Eccomi, Maya! Barbari! Se così sarà! A me toccherà! Sì, ci siamo. Sì, ci siamo.